ehi ehi oh cane buona questa pezzina buongiorno buongiorno non vedi che faccia che c'è, guarda lì la faccia sembra un bulldog via 5 e 5 e 10 sono usciti dai birilli, cazzo se c'è il birillo qua e tu vai dietro 5 e 5 e 10, si scendi dimmi che è stretta ma smettila, intanto hai preso 5 là che sei uscito dal birillo quindi l'ho demoralizzato, basta 5 anche te, sei uscito dal birillo cazzo sei uscito l'ho messo a fare perchè sei scusi eh oh io e leo l'abbiamo già fatta due volte te occhio ai birilli anche te allora di qua eh, devi entrare l'ho messo a fare l'ho messo a fare l'ho messo a fare del bundney allora io sono impartito che al Qurbani di Asnago mi sei girata una moto e ho strunciato per terra l'asfalto hai visto c'è la riga dell'asfalto però il ragazzo dietro mi dice se la tua giornata inizia così siamo a posto buona giornata lo stesso perché ha visto le scintille e ma ascolta tre volte in una settimana caricarla non va bene assolutamente tipo muletto devo pensarla cazzarola però l'hanno fatto bene perché effettivamente quando si è sganciata va a appoggiare il coso l'hai fatta no no filmare intanto che parlavo filmavo però a zero boh mettili la moto ribevi e poi la fa al contrario vediamo com'è l'allenamento degli anziani esatto scherzo sei andato è di là quando scendi fai la curvetta dentro vai su fino in alto scendi ancora e dietro la pianta parti che ti faccio vedere forza ho già fatto 50 chilometri stamattina è bravo viene a posto salta su scendi tenuta lo stesso ma che diavolo giro dentro giro dentro chiudi dove c'è sparti chiudi 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 bandierina la tirata via è qua scusate non posso mica demoralizzarli così basta è il contrario micchi basta così è contrario guardatela esatto di solito sei stupido andare la usi anche a capodanno te vieni qua no vabbè che tanto te non dai fastidio che cazzo vuoi?